E' stata posta oggi, giovedì 28 marzo 2013, una pietra di inciampo in memoria di Angelo Costanzi, giovane orvietano deportato dai nazi fascisti nel campo di concentramento di Mauthausen, dove trovò la morte a soli 36 anni nel 1944. La pietra è stata installata proprio davanti alla sua abitazione in via de Magonia d'Orvieto, alla cerimonia organizzata dall'Ampi d'Orvieto, dal Comune e dall'Opera del Duomo, ha partecipato anche Chiara Costanzi, nipote di Angelo. Allora, io sono Chiara Costanzi, la nipote di Angelo Costanzi e oggi sono stata chiamata per questa giornata importantissima. Per me è un momento veramente emozionante perché io mi sento, lo ripeto tante volte, ma lo ripeto con orgoglio, mi sento orvietana perché figlia di un orvietano, mio nonno era orvietano, ho vissuto qua tanti momenti. Mancavo da un pochino, ma riallacciare oggi, questa giornata, me la ricorderò, il 28 marzo e condividerla con gli orvietani è veramente importante. Perché? Perché una vita come quella di mio zio Angelo, come tante vite, sono state sacrificate brutalmente dal nazifascismo, dovrebbe essere da esempio per i nostri ragazzi perché hanno tanti valori ma pochi punti di riferimento. Quindi dobbiamo essere noi a stimolarli, ad informarli su quello che è successo. e insomma il mio zio Angelo è morto giovanissimo, era una persona per bene, sensibile, un artista e per me insomma è importante condividerla con la città di Orvieto. Chiedo scusa per l'emozione e grazie veramente a tutti gli orvietani, grazie mille. La targa, forse la leggete tutti, dice qui nel 1908 nacque Angelo Costanzi, mosaicista del Duomo di Orvieto. Deportato nel 1944 a Mauthausen per motivi politici, morì e venne bruciato come un pezzo di legno e sepolto al freddo in terra sconosciuta, Orvieto, 28 marzo 2013. Quindi vorrei un applauso. Grazie.